Ciao a tutti bella gente, quest'oggi vi parlerò di un argomento che non riguarda Londra, come avrete già ben capito dal titolo. È un argomento abbastanza serio e non è per niente una bufala, ormai se ne parla da più di un mese e nell'ultime due settimane questa notizia è diventata molto virale. Ovviamente prima di me ne hanno parlato youtubers anche molto più grossi, il primo è stato Wilwush che l'ha pubblicato un mese fa la notizia e poi anche fa VJ, che diciamo è diventato veramente virale, ormai ne parlano tutti. Non è una bufala perché nel momento in cui YouTube, che stiamo parlando di un'azienda stramega miliardaria, mondiale, manda email anche a creators piccoli come me che hanno soltanto 60 iscritti per divulgare questa notizia, per far sì che raggiunga quante più persone possibili, in quel caso si capisce che la situazione è veramente seria. Adesso vi faccio leggere la email che mi è arrivata. Ecco qua, questo è il mio indirizzo email del canale e questa è l'email di YouTube che mi è arrivata, dove appunto spiega perché tramite l'articolo 13 c'è il rischio che YouTube ed altre piattaforme simili rischiano seriamente di chiudere. Praticamente questo articolo 13 riguarda il copyright di tutti i video e le foto che vengono pubblicate su internet, quindi non parliamo solo dei video su YouTube ma anche delle foto che vengono postate su Instagram e Facebook, perché quest'articolo si fa a tutela degli artisti, quindi dice che su questi prodotti online, se su questi video, su queste foto risulta qualcosa coperto da copyright, come le canzoni, le musiche, il logo di un marchio, la locandina di un film o addirittura un meme coperto da copyright, non è giusto per tutti gli artisti che hanno creato quel copyright. Di base non è sbagliata l'idea dell'articolo, però per colpa di questo articolo, ora che sta diventando legge, la responsabilità dei video che vengono caricati non sarà più nostra, dei creators, ma sarà direttamente dalla piattaforma che pubblica i video, in questo caso YouTube. Quindi per la piattaforma YouTube non è possibile matematicamente controllare tutti i milioni, se non miliardi di video che vengono caricati ogni giorno su internet, quindi controllarne ognuno singolarmente, vedere se c'è anche la minima possibilità di qualcosa che è soggetta a copyright ed eliminarla dal caricamento. Questo porterà ovviamente alla chiusura automatica del canale. Non parlo solo di YouTube, ma anche di Facebook, di Instagram, di tutte queste altre piattaforme. Ovviamente io sono contro questo articolo perché leva la libertà di espressione di noi creators. Parliamoci chiaro, grazie a YouTube tanta gente è riuscita ad emergere, a poter essere libera di mostrare quello che veramente vuole. Infatti da quando sono nate queste piattaforme la tv ne ha risentito tanto. C'è tanta gente che ormai non la guarda più la tv. Tu apri YouTube e vedi direttamente quello che vuoi e quando lo vuoi. E sei sicuro che quello che vedi è quello che realmente la persona ti vuole mostrare. Quindi sì, diciamo che questo articolo viene fatto a tutela degli artisti, ma in realtà si ritorce anche su tutti gli artisti che ogni giorno creano contenuti sulle piattaforme come YouTube ed Instagram. Tanta gente è diventata famosa perché è riuscita a mostrare il vero talento grazie a queste piattaforme e non tramite la tv dove parliamoci chiaro per poter diventare qualcuno o paghi oppure devi dare la figa. Quindi perché io e tanta altra gente stiamo facendo questi video? Perché è stata creata una petizione su internet dove si stanno raccogliendo le firme e se saremo tanti a firmare questa petizione si potrà mostrare appunto alla comunità europea sperando appunto che nel momento in cui formulano la legge non vada ad attaccare totalmente e completamente queste piattaforme e si possa creare qualche scappatoia o postilla all'interno della legge con la quale queste piattaforme comunque vengono tutelate e quindi si potrà essere tramite l'articolo 13 di aiuto sia per gli artisti che creano canzoni, meme, marchi ma anche gli artisti che creano contenuti sulle piattaforme virtuali su internet. Quindi vi lascio in descrizione il sito YouTube dove potrete avere maggiori informazioni anche più dettagliate per quanto riguarda questo articolo e vi rilascio anche il link che vi riporta al sito della petizione dove si stanno raccogliendo le firme è molto semplice, io l'ho appena fatto anzi vi mostro anche come si fa ecco qua, questo è il sito dove poter firmare la petizione stiamo cercando di arrivare come leggete qua a 4.500.000 firme attualmente stiamo a 3.200.000 e firmare è molto semplice basta lasciare nome, cognome, indirizzo e mail, città e capo quindi veramente firmare la petizione è molto semplice se voi come me siete d'accordo su questo argomento quindi siete contro l'articolo 13 divulgate la notizia fra tutti gli amici io ritengo che sia una cosa veramente importante questa qua secondo me non è questa la fine di YouTube e di queste piattaforme devono arrivare alla loro naturale conclusione al loro naturale ciclo di vita e non per colpa di una legge fatta da alcuni figli di puttana perdonatemi ok, penso di aver detto tutto in ogni caso tanto vi lascio tutti i link in descrizione per maggiori informazioni ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi